Promoserio Eventi, eventi e manifestazioni della settimana in Val Seriana e Valle di Scalpe. Bentornati a tutti anche oggi con Promoserio Eventi ed ecco le manifestazioni che vi consigliamo o vi suggeriamo per questa settimana. Per gli sportivi cominciano delle maratone a Vertova che è un paese che si sta caratterizzando un po' per queste attività sportive e il primo maggio ci sarà la Maratona Valle Seriana aperta a tutti con percorsi dai 6 ai 30 chilometri quindi dai più semplici a quelli più impegnativi con partenza da Simonte. Mentre il 3 maggio in notturna invece ci sarà un appuntamento del circuito Fosso Bergamasco quindi uno delle varie maratone non competitive che si svolgeranno in tutta la provincia di Bergamo sempre con partenza da Vertova. La stessa sera, il 3 maggio, vi consigliamo di andare a osservare il cielo, osservare le stelle a Ganda di Aviatico presso l'Osservatorio Astronomico. Quindi tutti i mesi ora si potrà il primo venerdì del mese andare a fare questa esperienza sicuramente divertente e affascinante. Questo weekend, il 4 e il 5 maggio, sarà un weekend sportivo perché l'Unione dei Comuni, i Paesi di Rovetta, Onore, Songavazzo, Cerete e anche Clusone ospiteranno moltissimi, oltre un migliaio di bambini e di giocatori di rugby per il trofeo Lupo Alberto che si svolgerà proprio sui campi dell'Unione dei Comuni. Quindi anche possibilità per tutti di partecipare al terzo tempo conviviale, tipico di questo sport e ci saranno anche diverse attività alternative, tra cui anche la mostra di Silver che è proprio il disegnatore di Lupo Alberto, questo fumetto che tutti conosciamo. Il 4 maggio, inoltre ad Albino, invece ci sarà una giornata chiamata Festival delle Passioni. Quindi chiunque di voi abbia delle passioni o delle abilità particolari potrà esporre presso il Centro Storico di Albino per tutta la giornata e quindi sarà davvero un'occasione di festa con degli workshop, menu a tema, aperitivi nei vari locali del paese. Con in serata il concerto dell'appuntamento di Albino Classica quindi con il trio Raffaello, uno dei vari concerti di questo festival. Passiamo invece in Val di Scalve, quindi facciamo qualche chilometro in più e prosegue a Vilminore il corso di orto e orticoltura presso l'arboreto Alpino Gleno. L'appuntamento del 4 maggio sarà dedicato ai macerati e quindi al riutilizzo delle ortiche, dell'equisito e ai trapianti delle zucchine e delle barbabietole, insomma di altri prodotti. Domenica invece sia col bel tempo sia col brutto tempo non si può perdere una visita in miniera presso l'ecomuseo delle miniere di Gorno e la visita poi al sito minerario Costa Iels nel pomeriggio. Si comincia poi invece ad Ardesio con una presentazione, una anteprima di Ardesio di vino. Quindi ci prepariamo a questo evento estivo di agosto con il corso di degustazione di vino che si terrà dal 6 al 27 maggio presso l'albergo Bigoni di Ardesio e quindi cominciamo già a imparare un po' ad assaggiare in vista della festa di agosto. Bene, queste sono le manifestazioni della settimana. Potete trovare molto altro sul nostro sito internet valseriana.eu che è sempre aggiornato con tutti gli eventi della Valle. Vi auguriamo una buona settimana e un buon weekend.